Io faccio il pink, ce la vuoi fare, non è semplice, non è semplice, guarda lì abbiamo un altro gioco, alza un po' lo sguardo, la palla l'ha presa, ce l'abbiamo la presa, ce l'abbiamo qualcun altro che li vuole provare gli occhialini? Com'è? Chi li vuole provare gli occhialini? Eccolo qui, il giovanotto, allora mi segui la linea bianca, fai lo slalom tra i cinesini, i cinesini, non giochi a pallone tu, no, e poi ti fai il giro della ruota e mi ritorni indietro, va bene, vai, ce la puoi fare, vai, vai, e là, primo bang, il primo bang, C'è la puoi fare il secondo bang, ottimo, guarda lo che è così, concentra, vedi,